Antonella Fiordelisi, influencer 23enne resa famosa dalla sua partecipazione in qualità di tentatrice a Temptation Island nel 2017, sembra aver voltato pagina. Dopo la rottura con Francesco Chioffalo, conosciuto proprio all'interno del programma, la schermitrice, attualmente positiva al Covid-19, ha presentato su TikTok la sua nuova fiamma. Ecco con chi la Fiordelisi sta trascorrendo il periodo di Antonella Fiordelisi ha confermato di essere di nuovo innamorata. Il nuovo flirt era già nell'aria, ma solo adesso l'influencer ha confermato le voci. Su TikTok la 23enne si è mostrata mentre balla insieme al suo nome. L'ex di Francesco Chioffalo ha scritto di essere felice del fatto che anche lui sia positivo al virus, costretto quindi a stare con lei a casa tutto il giorno. Il video è stato commentato da molti followers della Fiordelisi. Alcuni sono rimasti sorpresi del nuovo flirt. Un utente ha detto di essere rimasta a Francesco, mentre un'altra ha chiesto ironicamente alla ragazza, a che numero di fidanzata. La 23enne ha riposto dicendo, come è noto, di essersi lasciata con Chioffalo da mesi e mesi e di aver avuto massimo due fidanzati nella sua vita. A ulteriore conferma dell'inizio della sua storia d'amore, la Fiordelisi ha condiviso ai suoi più di 200.000 followers di TikTok un altro video in cui ha mostrato proprio il viso del ragazzo, scrivendo i rumors dicono che mi sto sentendo con un ragazzo. I rumors sono veri. Con la canzone Rumor Is It di Adelins il nuovo partner della Fiordelisi si è mostrato sorridente con una collana con un anello come ciondolo. Il ragazzo in questione, che ha commentato il video, si chiama Gian originario di Salerno, sui social si presenta come un agente di PR e mental coaching. Anche quest'ultimo ha pubblicato dei video sul suo profilo TikTok in cui si mostra innamoratissimo della sua anto.